Mi interesso di slow fashion, abbigliamento sostenibile da ormai più di 20 anni. Non ho mai comprato fast fashion e mi sono sempre informata sulle varie problematiche. Però mi sono resa conto che è un settore estremamente complicato e ci sono talmente tante nozioni di base da imparare che effettivamente viene in aiuto questo libro. Lavorare coi piedi. Grazie al libro di Tansy E. Hoskins ho appreso una quantità incredibile di informazioni rispetto a tutta la filiera della calzatura mondiale. Primo dato che mi ha stupito è il fatto che nel 2018 in tutto il mondo sono stati prodotti 24,2 miliardi di paia di scarpe. 24 miliardi in un anno. Siamo circa 8 miliardi di cui almeno la metà non può neanche comprarsi un paio di scarpe per cui mi chiedo a chi servono questi 24 miliardi di paia di scarpe annuali per poter permettere la produzione di questo quantitativo enorme e totalmente sproporzionato di scarpe a dei prezzi bassi e il sistema capitalista che si regge sul consumo fa sì che per produrre sempre più profitti ha bisogno di ridurre sempre di più i costi e chi ne fa le spese di questa riduzione dei costi le persone coinvolte e l'ambiente. Un altro dato di questo libro che mi ha abbastanza sconvolta è che una singola scarpa può contenere 40 pezzi diversi 40 elementi che potrebbero essere stati manipolati da 40 persone diverse in 40 luoghi diversi del mondo e ovviamente in alcuni posti del mondo ci sono coinvolti anche dei minorenni tipo dei bambini di 6-8 anni. Una persona può dire sì certo però questo tipo di sistema dà lavoro ad un sacco di persone questo è vero ma il punto del libro è che non è il modo di lavorare è una forma di schiavitù sottopagati in condizioni di lavoro tossiche moltissime persone si ammalano non hanno pause neanche il fine settimana per cui sì il lavoro viene dato però a quali condizioni? il libro mi ha anche ricordato una cosa importantissima che voglio ricordare anche a voi e cioè il traffico di perfezionamento passivo questo sistema legale voluto dall'unione europea fa sì che una scarpa o un qualunque vestito possa essere definito made in italy o made in anche se solo una minima parte è stata realizzata in quel paese per cui purtroppo il made in italy non significa più assolutamente niente non vi sto a fare il riassunto del libro perché di informazioni ce ne sono veramente tantissime e consiglio a chiunque abbia un minimo a cuore la sostenibilità ambientale e sociale e animale di leggere questo libro sì fa male, fa molto male però è secondo me importante sapere per poi poter fare delle scelte consapevoli di che cosa acquistare grazie a tutti